...pulisci tutte le armi, tutte le armi. Io ho già pulito tutte le munizioni e tutte le armi. ...e vivi e attraverso, vedo. Tu non è vero, Horley? Questi bambini saprano come combattere. Credo così. Ora, mia mestra vuole mi ringraziare per la vostra attenzione al suo negozio. Sono sicuro che ci saranno più. Ma per ora, buongiorno. E buongiorno, se buongiorno è quello che vuoi. Ma che c'è? Cosa è? Cosa è? Cosa? Lo trovare. Su... Ma tu non lo vedi nel filmato, eh? Sì, ce l'ho il filmato, lo vedo. Ah. Su... su... come si chiama? Su... come si chiama? Su Play Store, non sulla Play, però sull'altro, tipo Android. C'è un'applicazione che si chiama... Ho preso il muro, fratelli. Sfreccia a tutta velocità e scrivi tutti i muri, fratelli. Ma che cazzo? Aspetta qua. Aspetta qua. Aspetta. Eh, non so, dobbiamo andare... Vai a Strawberry o nel Grand Plains? Eh, dimmi tu quello più vicino. Sono più vicino. Strawberry. Eh, sono tutte due uguali. Eh, andiamo a Strawberry. Strawberry che è più vicino. Ma dobbiamo rapinare il... il Cosa Plaza, no? Non lo so. Non lo so. Credo che si spaventa. È molto spaventato. Ho mai detto, eh, non hanno messo ancora le rapine. Ma vedi, cazzo abbiamo... Col... ah, hai bisogno di due cose per il colpo. Una diligenza che va dritta di spedizione custodia e delle uniformi da casa di formimento e del viaggio dei Grand Plains a Blackwater. Ma non è che ognuno di noi deve fare una strada diversa? Se serve una diligenza o... No, vabbè, andiamo tutti due in un punto. Ehm... e poi magari l'altro ci andiamo in due. Guarda qua, ma non mi ne al culo, lui. Eh sì, ho messo... Io ho messo l'antena su se si vedeva un cazzo. Tens, hai mai stato in mezzo ai boschi al buio, eh? Io sì, all'inizio del gioco si vedeva un cazzo. Eh sì... Ma che rosso? Eh, ci saranno i nemici. Cerca la diligenza. Ci sono i giocatori... eh, no. Ci sono i tizi. La diligenza è qua, mi sa. Però se riusciamo a fare silenzioso, ma... Poco spero che riusciamo a fare silenzioso, qua c'è gente. Tranquillo. Dormirai solo? Che droga è a botta. Posso frugare? Sì. Ah, devo allargare il... Eh, mi hanno visto. Eh, mi che mordato, eh. Ma l'ho già visto, perché se no... Preso. Che schiva. Schiva i gol. Preso. C'è un collezionabile. Pure. Do sta? Sta sotto, mi sa. Potca trova un collezionabile di goli importanti. Penso, eh. Eh sì. Eh, un altro del... di quelli leggendari. Oh, bottiglie pregiate. Devo a 7. Trovato. Trovato? Eh, io ammazzo un attimo i nemici e... Chiesti fanno male, eh. a me lo penso. Sì, sì, hai trovato. Eh sì, è scaricavalli, spaventano. Giù sta all'altro. Se può. Può già andare via? No, vabbè, son segnali di genza. Un voleva caricare... Ma aspetta un attimo. Ma la dirigenza era guidata da qualcuno? Eh, non lo so. Mi sa di stile che si sta muovendo molto velocemente. Sì, i cavalli stanno bene così, non vengono. Eh, no, no, il mio avanti sta arrivando. Allora, sta andando nella parte sbagliata del gioco, però vabbè. Buttati giù nel... Buttati giù nel... Quanto lo va? Ruba la dirigenza, mi sa che la stava porta a qualcuno. Vivo o morto, ricercato. Guardate, non mi pigliano. Ah, c'è un WPT, mi sembra un lecone. No, pure Eagle. Sì, ho otto colpi. E sparare otto colpi. Messi l'ha stato a sport a qualcuno. Sì, ho preso. Ah, dei prigionieri la stanno trasportando. Ma non è normale questa cosa. Ho fatto io? Vabbè, ho fatto io. Ah, beh, ho fatto io. Devo, devo capire dove... dove la devo portar però, perché... Ma tu cazzo entra! Ho preso. Ho preso. Ho preso. Ma dove sei entrato? Da dentro? Entro da dentro. Che modda... Ah, c'è davanti. E dai! Poi, continuare a arrivare non riesco a fare manovra. Di un manovra. Cazzo che... Ah, no? Ma come è morto questo? Ma però qua, perché entra dentro? Ma che ne so io? Rimani là, no? E t'aiuto a sparare. Eh, andrà sali su. Botto in genna. Ma non mi fa salissimo. Vabbè, rimani là. Fermati che sei sceso! Fermati che sei sceso! Trovo bello. Fermati che sei sceso! Ma di qua devo andare. Vediamo un po' se i cavalli vanno da soli? Sì. Dovevano... Dovevano ad indirizzarsi sulla retta via. Devi togliere i punti inolati e li metterò sull'altro, mi sa. Così dopo... Dove vanno i cavalli? Ah, perché segui... 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 Ma perché i cavalli vanno di qua? Vabbè. Eh, li stai guidando... Eh, magari stavano... Magari stavano a seguire la mego. Eh, spero che vede. Può essere, eh. Il problema è che devono seguire quella gialla, non quella... Quella... Quella blu. Vediamo un po' se li metto qua che fanno. Sì, ora stanno seguendo questa meta qua. Guarda questo, cappieri! Oh, ma si è buttato a terra! Ah, perché ho la parola che lo buttavo sotto. Il butti sotto col carro... Vedi dai test che partono in aria, lo sai, no? Se i cavalli andassero... Mi piace, ho 17 colpi... Devo ricomprare il telemunizio? Meno male che l'ha ricomprato. Eh, ma li ho finite subito. Ce ne ha... Quelle speciali sono 100. Ne posso usare solo 100. Non sono come quelle normali che ne posso acquistare 200. Ce ne posso mettere di salva 200. Ok. Ma con le speciali sarebbero quelle Express, eh? Quelle Express... Ah, sono... Aspetta che vedo. Sono quelle Express. Quella espansione e quelle veloci. Eh, su qua. Che quelle Express, non so... Vanno più veloci e fanno molto più danni. Infatti di solito le uso contro i giocatori. Perché se qualcuno rompe il cazzo, almeno con quello... Un colpo e lo shot. Devo fare? Ah. No, chiamano il cavallo per andare là in fondo. Cioè, stiamo preparando tutto per il colpo. Il veicolo della fuga. E... Le uniformi. Ma stai a giocare GTA V, eh? Vabbè, vengo volte. Mi ha ancora da arrivare. Aspetta. Qua. Ah, ma si è spostato. Prima era verso Mazzanita Post. Ma invece l'aria si è... Si è ingrandita. Cavallo mio, prima che arriva... Vanno... Se fa giorno, vado va. Ma cavallo tu, prima che arrivi che lasci tre volte. Ah, eh. 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 Sì, ma il... Nelle greffolese è alto, non c'è il grande, non è piccolo come post. Quello problema. Qua c'è un cosaggiatto. Se so strozzo sa avvicina. Talla, 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 scappa l'altra, l'altra zona. Ah, chi è? Qua è quello in fondo, aspetta. Eccolo qua Oh guarda qua Ah è qua è qua Davanti a me poi esco Ma perché non mi fa più attivare il dettaglio? Cioè il dettaglio, il coso Ah lo lozzo deve essere io Ah mi dice di qua adesso Eccolo Ah mi diceva di là Aspetta aspetta Ah si c'è una di guardia Eh si allora si Gli spara gli addosso E li ammazzò tutti nella nebbia Cazzo ho sparato Cioè ho sparato mirato così a minchia E li ho preso Non sul cavallo 21 golpi si è preso in faccia questo Ah aspetta che devo fare una cosa Perché se no mi Che avevo messo Sì devo togliere la meta Perché se no non sei quella mia Un po' una stronzata Però vabbè E' morto Va mi da uccisione 5 Poi mi da quei colpi speciali Mi da altri 5 a me da Ma te lo va Mi fa puntare il cavallo Non capisco il perché No Ho penso che ho preso il cavallo Ehi O Dove Dove Ah ho preso? Ma perché i cavalli si fermano? Gli hai preso? Ancora il cavallo hai preso mi sa? Sì. Il cavallo c'è, non lo so perché. Hai ammazzato pure il cavallo. Non capisco perché. Cioè proprio quando vai a mirare ti miravo come se il cavallo fosse il nemico. Anche capite che il cavallo è solo uno strumento di trasporto. Preso. Quello no. Ora sì. Solo 11 colpi extras. Ma siamo vicini o mi sta portando sempre più lontano se va? Cosa? No puido io tanto. Mi dici che ci inseguiscono sono finiti. Non arrivano più. Eppure siamo comunque ricercati. Eh sì, guarda. Non siamo più ricercati adesso. Ci sono rotti il cazzo. Ho detto quello lì, quello, quello, quello più scuro. L'ho visto il più scuro c'è shotta a distanza. Manco 100 metri. Quell'altro c'è shotta ai cavalli. Ehi, che cazzo ne va a fa? Ma vada ai cavalli. Oh, forse che stanno fermi. Abbiamo tutto quello che ci serve. Sì. Il colpo facciamo. Ma speriamo che ci dà un bel paio di sordi. 10 dollari. Tipo come fai la fine su GTA che ne sa 800 mila dollari. Eh, madonna, figa, il cazzo c'era tutto quello. Sicuramente ci saranno, in banca ci saranno 40, 50 dollari, 100, 200, 300, non tantissimi. C'è la joy stick che la peggia bianca e rosso. A me no, a me è soltanto rosso adesso. Bianco rosso. Oddio. Ha tradito, ha tradito la razza. E tu sempre per terra quando sta vicino all'acqua o piove? C'è l'acqua o piove? C'è l'acqua o piove? C'è l'acqua.